Buongiorno a tutti. Sul sito della Tecnica ieri è stato pubblicato un approfondimento sulle sanzioni che possono derivare dalla violazione delle disposizioni governative che impongono misure restrittive in questo periodo di gravissima emergenza. Oggi a fronte dei dati forniti dal Viminale è opportuno un approfondimento. Infatti i numeri forniti dal Ministero dell'Interno sono abbastanza preoccupanti. Si parla di circa 46.000 cittadini denunciati per la violazione delle disposizioni restrittive contenute nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e 9 marzo scorso. Sono numeri elevatissimi, segnale che ancora non è ben chiara sia la gravità della situazione sanitaria che sta attraversando il nostro Paese e il mondo intero trattandosi di una pandemia, sia la serietà delle misure e delle conseguenze di natura penale che derivano dalla loro violazione. La più blanda delle contestazioni che potrebbe essere mossa a chi si sposta dal proprio domicilio senza un giustificato e valido motivo è certamente la violazione dell'articolo 650 del Codice Penale che punisce chi non osserva un provvedimento emanato dall'autorità. In questo caso si avrebbe una semplice ammenda, sostanzialmente una pena pecuniaria. Però in base alle circostanze potrebbero configurarsi anche reati ben più gravi con pene ben più severe. Infatti dal report pubblicato dal Viminale emerge che quotidianamente sono numerosissime le denunce oltre che i sensi dell'articolo 650 del Codice Penale anche per i reati di falsa dichiarazione perché spesso nella compilazione del modello di autocertificazione è stata contestata la dichiarazione mendace. Quindi bisogna stare molto attenti perché il reato di falsa attestazione comporta severe sanzioni penali. Ci sono anche casi ben più gravi perché abbiamo letto dai comunicati stampa che molti cittadini hanno reagito anche in maniera scomposta ai tentativi di controllo da parte dell'autorità. In questi casi si potrebbero configurare gli estremi in reato di resistenza pubblico ufficiale o addirittura violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Naturalmente a fronte del nuovo modello di autocertificazione fornito dal Ministero all'interno che impone di dichiarare di essere consapevoli delle misure sanzionatorie previste per la violazione delle disposizioni e di non essere sottoposti alla misura della quarantena in quanto positivi al virus Covid-19 qualora chi fosse costretto in quarantena in quanto positivo venisse trovato fuori dal proprio domicilio scatterebbero ipotesi di reato gravissime. Si tratta di reati contro la salute pubblica, quali per esempio il reato di epidemia e nelle ipotesi ancora più gravi qualora determini questa condotta il contagio di altre persone potrebbero aggiungersi reati di lesione colposa o addirittura di omicidio. Se le forze dell'ordine sono quotidianamente impegnate nei controlli del territorio anche la magistratura si sta attrezzando. Con una nota di ieri il procuratore della Repubblica di Catania ha infatti annunciato che i tempi per l'esercizio di reazione penale saranno particolarmente veloci per i casi più lievi per il reato di cui l'articolo 650 ma l'ufficio si sta attrezzando anche per far fronte alle ipotesi di reato ben più gravi. L'invito naturalmente che facciamo anche noi è quello di stare a casa evitare ogni spostamento che non sia giustificato da ragioni di stretta necessità e osservare le disposizioni del governo. Grazie e arrivederci.